Comunicato della famiglia di Jules Bianchi, questo è un momento molto difficile per la nostra famiglia, ma i messaggi di sostegno e affetto per Jules che arrivano da tutto il mondo ci sono di grande conforto. Per questo vogliamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento. Jules rimane nel reparto di terapia intensiva del Mie General Medical Center di Yokaiki. Ha sofferto un esteso danno assonale e si trova in condizioni critiche ma stabili. I medici dell'ospedale gli stanno fornendo le migliori cure e noi siamo loro grati per tutto quello che hanno fatto per Jules dopo l'incidente. Siamo anche grati per la loro presenza al professor Gerard Seilland, presidente della commissione medica FIA, e al professor Alessandro Frati, neurochirurgo dell'Università La Sapienza di Roma, che è arrivato in Giappone su richiesta della scuderia Ferrari. I professori sono giunti all'ospedale oggi e hanno incontrato il personale medico che ha in cura Jules, in modo da essere completamente informati sul suo stato clinico e in condizione di poter dare indicazioni alla famiglia. I professori Seilland e Frati hanno riconosciuto l'eccellenza delle cure fornite dal mio General Medical Center e intendono ringraziare i loro colleghi giapponesi. L'ospedale continuerà a monitorare ed a curare Jules e ulteriori aggiornamenti medici saranno forniti quando ritenuto appropriato.